Il centro polifunzionale è dotato di laser attualmente più all'avanguardia di tutte le e Europa. Vero plus della struttura è inoltre la presenza di una sala operatoria per chirurgia ambulatoriale di primo livello e con strumentazioni di ultima generazione. Ascoltiamo ai nostri microfoni il dottor Marco Moraci, la conduttrice televisiva Veronica Maia e l'attrice giornalista Susanna Messaggio. L'idea di questo studio nasce da lontano, nasce da quando io lavoravo e vivevo a Londra dove ho trascorso 12 anni della mia carriera e già lì sognavo di tornare nel mio paese di origine e cercare di realizzare in un unico centro tutta la professionalità che avevo guadagnato all'estero, inserendo nel centro più figure professionali specialistiche che lavorassero intorno all'estetica. Quindi in questo studio troveremo la figura del chirurgo plastico affiancata a quella della dermatologo, del nutrizionista, del ginecologo, del senologo e anche della ginecologia estetica che curirà appunto la chirurgia intima femminile e maschile con metodiche sia chirurgiche che non chirurgiche. Nel centro avremo dei macchinari laser medicali di ultima generazione, in particolare quattro macchinari che sono stati consegnati per la prima volta in Europa qui in questo centro, siamo esclusivisti europei per ora e questi macchinari sono tutti macchinari non ablativi, nel senso non comportano ustione né un particolare discomfort per il paziente. Tutti i trattamenti che verranno fatti sono trattamenti laser medicali che permettono il ritorno alla vita quotidiana del paziente giusto dopo poche ore senza interrompere quindi la routine quotidiana, l'attività lavorativa e possono anche essere fatti in stagioni estive quindi permettendo anche di andare al mare. Dico questo, ci tengo a puntualizzarlo perché quando si parla di laser spesso il paziente ha paura, laser viene associato mentalmente all'ustione ma quello è un tipo di tecnologia già superata che noi non abbiamo in questo centro e in questo centro vorrei focalizzare l'attenzione in particolare su due macchinari uno è lo Scalciur che è un macchinario di un'azienda americana che è la Sinosur che appunto è stato consegnato qui pochi giorni fa che è l'unico macchinario al mondo con brevetto FDA per la liposuzione non chirurgica che in una sola seduta è capace di ridurre del 25% il tessuto adiposo sottocutaneo e trova indicazione particolare per il sottomento quindi capace di levare il sottomento in una sola seduta senza ostione, senza dolore senza discomfort per il paziente e trova indicazione anche per la cura degli inestetismi dovuti alla diposità localizzate per fianchi e addome, di fianchi e addome poi avremmo la piattaforma multidisciplinare Icon 500 sempre della Sinosur che è una macchina molto versatile che trova indicazione invece per tutti gli inestetismi e le patologie cutanee quali il melasma, il cloasma, cicatrici acneiche in fase attiva o appunto vecchie, atrofiche, cicatrici chirurgiche, cicatrici vecchie, lacerocontuse e anche smagliature, epilazione, macchie solari e un laser capace di fare il fotoringiovanimento quindi curare tutte le discromie cutanee, di chiudere i pori quindi è una macchina molto molto importante, molto completa poi abbiamo invece un macchinario di produzione italiana con tecnologia al plasma per la cura degli inestetismi della zona periorbitale quindi capace di fare la bleferoplastica intervento di chirurgia estetica che si fa per eliminare la pelle in eccesso intorno agli occhi questo macchinario, il DAS appunto permette la bleferoplastica non chirurgica cioè permette di ridurre la pelle in eccesso intorno agli occhi o le borse palpebrali senza chirurgia poi avremo ancora un macchinario dedicato ai tatuaggi alla rimozione dei tatuaggi che in una sola seduta o due massimo riuscirà a levare i tatuaggi anche quelli più grandi finendo poi con un macchinario molto importante che si chiama Thermage che permette attraverso una radiofrequenza selettiva medicale di curare l'elassità cutanee quindi sia a livello del viso che a livello del corpo per finire Dulcis in fundo abbiamo la sala operatoria ambulatoriale chirurgica anche questa con macchinari di ultima tecnologia nella quale troveremo un macchinario dedicato all'estrazione e alla concentrazione delle cellule staminali questo sarà capace appunto di estrarre le cellule staminali dalla membrana degli adipociti quindi con un semplice prelevo di grasso noi potremmo isolare le cellule staminali e riutilizzarle nel corpo o nel viso laddove vogliamo rigenerare la pelle o volumizzare alcune aree corporee ad esempio come il seno o come il gluteo Insomma un centro di eccellenza, tanta ricerca naturalmente alle spalle che ha portato poi alla nascita di questo centro Marco Moraci e poi un team a questo punto qualificato di esperti perché quando ci si vuole in qualche modo avvicinare a questo settore trovarsi più bella è importante anche appunto il check out Assolutamente e vorrei anche sottolineare l'importanza della sicurezza purtroppo oggi devo dire una nota dolente il mondo della medicina estetica non è regolamentato bene a mio avviso e ci sono tante situazioni in cui il paziente si affida a persone che non sottopongono i pazienti appunto a screening adeguati, a diagnosi, ad anamnesi adeguata prima di sottoporli a un determinato trattamento di medicina estetica o di laser terapia e quindi il paziente tante volte rimane scottato da esperienze negative e credo che proprio in questo settore, proprio perché c'è tanto il contretutto e il contrario di tutto, un po' di professionalità e di sicurezza sia necessaria nel nostro centro troverete professionisti di ottimo livello e tutti i macchinari sono certificati dall'FDA che appunto come tutti saprete è l'organismo più importante di farmacovigilanza che appunto mette il suo marchio, la sua firma solo su macchinari o su metodiche scientificamente studiate quindi ci sarà anche un'attività di ricerca che faremo all'interno insieme a professionisti appunto faremo delle ricerche cliniche e degli studi pubblicando di volta in volta quelli che saranno i risultati ottenuti Veronica Maia, un salotto della bellezza apre finalmente a Napoli firmato dottor Marco Moraci c'è anche un po' del tuo cuore in questo salotto perché sei stata in qualche modo attivissima nell'organizzazione anche di questo splendido opening ma soprattutto un consiglio alle donne quanto è importante ritrovarsi più belle, farsi del bene affidandosi a mani sicure bella premessa, ti ringrazio tanto, sì, tanto cuore non solo in quanto moglie ma perché insomma Marco veramente meritava visto che ha osato così tanto in questa bella città che comunque ci accoli che noi abbiamo scelto per vivere un progetto ambizioso e un progetto in cui insomma cerco di sostenerlo ma a distanza perché poi questo è il suo ambito, io faccio la mamma, ho il mio lavoro sicuramente assorbo quella che è un po' la sua filosofia della bellezza quello che è il suo modo di andare incontro alle esigenze, alle richieste di una donna senza mai sanaturare, senza mai stravolgere, senza mai che si veda senza che sia mai eccessivo questo è il segreto e la giusta misura di quando si parla di chirurgia plastica piuttosto che medicina estetica c'è anche una grossa evoluzione in questo senso perché poi la laser terapia ha fatto passi da giganti per cui ecco per la prima volta anche io mi sto interfacciando con un mondo nuovo un modo nuovo di parlare di medicina estetica la laser terapia è una cosa che ti può accompagnare anche se non sei troppo grande troppo matura, anche se non hai segni particolarmente visibili ci sono piccoli inestetismi che vuoi per esempio la gravidanza io parlo del mio caso, ho tre figli è ovvio che non sono indenne dai segni della gravidanza questo è un modo come dire delicato, non chirurgico di comunque trattare dei piccoli inestetismi e quindi ecco la cosa bella di questo centro è che si vengono un po' coccolati, accolti da quello che si chiama protocollo ma che in realtà poi è un percorso non invasivo e pensato su misura quando si parla di bellezza, di salute, di benessere Susanna Messaggio è presente, questa oggi qui a Napoli per l'opening dello studio del dottor Moraci come dicono le giornaliste, come hanno detto nella conferenza stampa tenuto un minuto fa, la bellezza anima al mondo ma soprattutto ci voleva una nuova clinica nel cuore di questa città che di per sé è meravigliosa e sono venuta apposta da Milano perché il dottor Moraci è veramente bravo lo vogliono tutte, non solo Veronica una clinica che naturalmente come dicevamo prima con il dottor Moraci garantisce non soltanto risultati in termini di bellezza ma la salute prima di tutto, la qualità, la sicurezza che è una cosa che oggi le donne cercano perché c'è tanta approssimazione direi che la cosa più importante, autorevole anche che il dottor abbia detto questo perché ognuno è un soggetto a sé stante e bisogna capire anche le differenze tra una persona e un'altra che cosa consigliare a una paziente e anche quando consigliare di non fare niente allora l'etica di un bravo medico è proprio questa grazie 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 grazie